La Gran Bretagna sancisce il divorzio con l'Europa e a poche ore dall'esito tutti cercano di comprendere le ripercussioni economiche a breve e lungo raggio. Anche l'Abruzzo si troverà a fare i conti con i nuovi confini geografici perché proprio il Regno Unito si annovera tra i capitoli di export più corposi della regione. La Gran Bretagna è il terzo paese di destinazione delle nostre esportazioni, in particolare per quanto riguarda alcuni settori che sono anche trainanti nella nostra regione, in particolare si tratta dei mezzi di trasporto, macchinari e materie plastiche. Questo insieme di settori contribuisce a un export verso la Gran Bretagna di circa il 10%. In particolare il vino abruzzese, le nostre cantine, sta diventando molto competitivo, però è un settore molto concorrenziale, soprattutto in Gran Bretagna. Il che significa che l'introduzione di eventuali dazi, l'introduzione di eventuali contingentamenti, ancora diciamo eventuali perché c'è tutto un percorso da definire, la svalutazione stessa della sterlina possa in un certo senso indebolire questo flusso di merci abruzzesi verso la Gran Bretagna. Non solo export tra le voci in elenco sulla pagina destinata ai cambiamenti di relazioni, da inserire ci sono turismo, studenti e scambi culturali, tutto ora sarà colpito da confini economici. Noi ci troviamo di fronte a un bivio come Unione Europea e quindi indirettamente per l'Abruzzo. Il bivio può essere o di natura negativa, cioè che questa uscita dalla Gran Bretagna possa avere un effetto domino, che coinvolgerebbe poi altri paesi, soprattutto i paesi più forti, tipo l'Olanda, tanto per fare un esempio, o viceversa può essere un segnale per dare una scossa a un processo che sinora è stato un processo molto contraddittorio. Io mi riferisco soprattutto alle disuguaglianze sociali, perché il risultato di Londra dalla Gran Bretagna va anche in questa direzione, mi riferisco alla disoccupazione, mi riferisco a tutta una serie recessiva che ha nettamente indebolito la struttura produttiva dell'Europa e del nostro paese in particolare. Quindi se la Gran Bretagna va via e al tempo stesso questo paese che ha ostacolato fino a questo momento qualsiasi rapporto di coesione, di unificazione, può accelerare questo percorso, io guardo la cosa a questo punto col cosiddetto bicchiere mezzo pieno.